La mistagogia della veste tra gli altri mistagogie l'ho ritrovato qui come fotocopia del libretto stampato a suo tempo, dove la mistagogia è divisa in tre parti, la veste battesimale, la veste penitenziale e la veste nuziale, poi qui e là abbiamo arricchito la mistagogia e abbiamo aggiunto così veste battesimale, veste penitenziale, veste sacrificale, veste di combattimento e veste nuziale. Comunque il simbolo della veste è un simbolo biblico che troviamo ben sottolineato nel Vecchio e nel Nuovo Testamento, ma è anche un simbolo liturgico. Ricordate nel Santo Battesimo quando dopo il rito battesimale, dopo l'unzione del Crisma, il seggiordote consegna la veste al bambino e dice con questa veste dovrai camminare e arrivare alla Patria Celeste, conserva questa veste intatta nel cammino della vita, per cui è un simbolo la veste biblico e liturgico insieme e si presta bene al rito mistagogico. Quando una madre aspetta un bambino incomincia a cucire il vestitino per il bambino, prepara i vestiti per il bambino che sta per nascere. E così anche la Santa Madre Chiesa quando sta nascendo un bambino all'altare o a ponte battesimale prepara la veste bianca che dovrà indossare nel rito antico come ci testimoniano così le catechesi battesimale di Cerillo e di Cerillo e di Cerillo e di Rosalmitano e come direte anche nella liturgia romana il battezzato indossava la veste bianca dopo aver smesso le vesti più usuali e conservava queste veste bianche per otto giorni. Per cui sia le nostre madri in casa, sia la Madre Chiesa hanno voluto simboleggiare bene questo vestito preparando la veste bianca bella per il proprio bambino. Anche il buon Dio ha preparato come madre nel suo amore materno il primo vestito Adamo ed Eva. Prima non avevano bisogno di vestito, avevano il vestito dell'innocenza, il più bel vestito, quel che noi avremo in cielo dove non citeranno più i vestiti del viaggio terreno. Erano nudi, erano vestiti dell'innocenza, essi camminavano con Dio, tutto era in ordine e tutto era bello. Ma quando il peccato entrò nel mondo, allora incomincia il viaggio dell'uomo sulla terra. E Dio provvede un vestito ad Adamo ed Eva. Essi avevano tentato di farsi un vestito di foglie, ma l'uomo non si può vestire. Una volta è perduta la grazia, l'innocenza primordiale, soltanto Dio può dare il vestito della grazia o il vestito che prefigura la grazia. E' così che Egli chiama Adamo ed Eva dal fogliame del paradiso terrestre dove si erano nascosti. Prende un agnello e ne fa un vestito. Il primo sarto è Dio, veste di un perisoma Adamo ed Eva perché non ti vergognano l'uno dall'altro. Ma quel vestito è il vestito dell'agnello, il vestito della grazia, il vestito simbolico, il vestito c'è che preluda alla grazia che verrà ai nostri progenitori e a tutti i generi umani quando l'agnello comparirà in questo mondo e diventerà vittima dei nostri peccati. E allora leggiamo questo bellissimo testo nel libro del Genesi, capitolo terzo, i versetti 7-13 e poi i versetti 21-24. Subito c'è un altro testo del Nuovo Testamento, nasce il Gesù e Gesù e anche la Madonna come buona madre prepara un vestito al bambino. Lo avvolghi in pace che ha preparato. È il primo vestito bianco dell'uomo innocente, dell'unico uomo giusto venuto in questo mondo. Ecco, leggiamo questi due testi. Ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto, non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna, non morirete affatto, anzi Dio sa che quando voi ne mangiasse si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vive che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anche egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì. Il Signore Dio disse allora, ecco, l'uomo è diventato come uno di noi per la conoscenza del bene e del male. Ora egli non stenda più la mano e non prende anche dell'albero della vita. Ne mangi e viva per sempre. Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada folgorante per custodire la via dell'albero della vita. L'albero della vita nascerà sulla terra. Dio prende l'acimo di un albero come accennato in Ezechiele e la pianta. Il germoglio della radice di esse spunta, nasce Gesù lui. È lui l'albero della vita, il frutto che darà all'uomo la vera vita. Guardiamo adesso Maria, questo è il germoglio della radice di esse e guardiamo il frutto del suo trembo in cui c'è la vita nostra. I nostri progenitori non arrivarono a mangiare del frutto dell'albero. Ma tutti noi possiamo adesso mangiare del frutto dell'albero e avere la vita. ora mentre si trovava in quel luogo si compierono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primo genito, lo avvolse in fasce, lo depose in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. Ecco è stato portato il vestito bianco battesimale, il vestito confessionato da Maria per Gesù, confessionato dalla Chiesa per i battezzati. Abbiamo indossato noi tutti questo vestito bianco, il vestito della grazia, il vestito della fede, della carità e questo vestito che dobbiamo noi indossare sempre, ripulire sempre perché con questo vestito dobbiamo presentarsi al tribunale di Dio. E adesso c'è un altro vestito, l'uomo deve far penitenza, tribole e spine nasceranno dal suolo, tu lavorerai col sudore della fronte e col sudore della fronte che mangerai il tuo pane. L'uomo deve fare penitenza, ma soprattutto deve fare penitenza quando il peccato invada la vita dell'uomo. Man mano che l'uomo va lontano da Dio aumenta il peccato nel genere umano, ci sono tutte le aberrazioni. Ma Dio richiama nella sua misericordia l'uomo alla ragione, richiama all'osservanza della legge, all'osservanza dei comandamenti scritti nel cuore dell'uomo. Ecco Dio richiama i Neliviti per mezzo del profeta Giona. Dio è misericordioso, non guarda i peccati degli uomini quando gli uomini ascoltano la sua parola e si convertono. I Neliviti ascoltano la predicazione di Giona. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. E il re di Ninive indice il digiuno. Si veste di sacco, di cenere. Fa vestire tutti di sacco e di cenere. Tutti gli animali anche debbono digiunare. C'è penitenza universale in città e Dio si commuove. E i Neliviti hanno ascoltato la voce del Signore. Dirà Gesù, i Neliviti ascoltarono Giona. Si convertirono e Dio sono buon indire. Ma questa generazione non ascolta la mia parola. Eppure c'è qui uno più grande di Giona. O Caparno, o Corazio, voi credete di essere elevati in alto? Sprofonderete nell'inferno. Perché non avete ascoltato la voce del figlio di Dio. È un ammonimento per noi. I pagani, o meglio i lontani, tante volte, ascoltano la voce di Dio e fanno penitenza. I vicini, o cosiddetti vicini, disattendono la voce di Dio e rischiano, grosso, rischiano di cadere là dove avrebbero dovuto cadere i Neliviti. I Neliviti salvano e caparino la città di Cristo. Dove Cristo, tanto che ho predicato, scenderà nella profondità dell'inferno. E lo rischio è che noi corriamo se non ascoltiamo la voce del Signore che ci invita a penitenza. Ascoltiamo. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava. Ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno. Vestirono il sacco dal più grande al più piccolo. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato in Ninive questo decreto. Uomini e animali, grandi e piccoli, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e bestie si coprano di sacco e si invochi Dio con tutte le forze. Ognuno si conversa dalla sua condotta malvagio e dalla violenza che è nelle sue mani. Chi sa che Dio non cambi, si impietosisca, deponga il suo ardente sdegno, sicché noi non modiamo. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia. E Dio si impietosì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Ecco, un uomo penitente che invita alla penitenza e alla conversione precede Cristo. Il suo messaggio è il messaggio di Cristo, che viene anticipato, voce di una che grida nel deserto, fate penitenza, convertitevi. Egli è vestito di pelle di cammello, egli manda le buste, grilli selvatici, fa penitenza. Gesù, parlando di lui, dice Chi siete andati a vedere nel deserto? Un uomo mollamente vestito? Quelli che vestono mollamente stanno nei palazzi del re. Chi siete andati a vedere? Questo grido del primo figlio spirituale di nostra madre, Maria, risuona sempre. Ancora oggi per bocca della stessa madre, che ci dice convertitevi e fate penitenza. La Madonna che ci invita al digiuno, al digiuno, al digiuno. E noi non vogliamo sentire, ci invita alla preghiera, a una vita penitenziale. Anche noi, rinnovati nello spirito, abbiamo un po' allentato queste tenore di vita. Forse noi vestiamo mollamente, forse noi mettiamo gioielli e bellette, e d'altre siamo rosagli addosso a noi. Non siamo rinnovati, anche se realmente questo abito penitenziale deve rifugere nel nostro vestito, nel nostro modo di comportarci. Comunque il Signore ci invita alla penitenza, alla conversione. Ascoltiamo adesso, così questo testo, che ci ripresenta la figura di un grande penitenza del primo cittadino del regno nuovo, l'ultimo del vecchio regno e il primo del nuovo regno. Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di confessione per perdono dei peccati. Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di pelle di cammello, con una cintura di pelle attorno ai pianghi, si cipava di locuste e miele selvatico, e predicava «Dopo di me viene uno che è più forte di me, e al quale io non sono degno di chinarmi, per sciogliere i lacacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. «Dopo di me viene uno che è più forte di me viene uno che è più forte di me viene uno che è più forte di me viene. «Dopo di me viene uno che è più forte 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 di Islele, hei domini, islele, hei domini. Questo è il vestito rosso, il vestito sacrificale, entriamo qui nel mistero della Redenzione, è il vestito che i fratelli di Giuseppe presentarono al padre Giacobbe in tinto di sangue. Questo vestito prerudeva al sacrificio di Cristo, Giuseppe è figura di Cristo, viene venduto dai fratelli per trenta denari, Gesù sarà venduto per trenta denari dai propri fratelli. E' oggetto di invidia da parte dei fratelli, come oggetto di invidia fu Gesù, da parte dei sacerdoti, da parte del Sinebrio. E Giuseppe così nel simbolo viene sacrificato, per gli interventi di uno dei fratelli viene salvato, messo in una cisterna, ma davanti agli occhi di Giacobbe il padre, egli è un sacrificato, è sbranato, è sbranato, è sbranato, è sbranato, la rifiere, quando gli presentano il vestito polimito, rosso, canulato, tanti colori, dalle maniche larghe, e Giacobbe riconosce il vestito del figlio, dirà una fiera pessima, lo ha divorato, e tutta l'altra vita piange il figlio perduto, ma poi lo ritroverà Giuseppe e il Salvatore, il Salvatore del popolo ebraico, ossia dei propri fratelli, il Salvatore del mondo, come viene chiamato. Così sarà Gesù, egli in questa tradizione della croce salva il mondo dei propri mercati, salva gli uomini che lo hanno crucifisso. Leggiamo il racconto in Genese 37. Trattanto, vennero a passare alcuni mercanti malianite. Allora essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna, e per venti cicli d'argento lo vendettero agli smailite. Così fecero per venire Giuseppe in Egitto. Quando Ruben ritornò alla cisterna, non trovò più Giuseppe nella cisterna. Allora egli si stracciò le vestie, ritornò dai suoi fratelli e disse, «Il ragazzo non c'è più, e io dove andrò io?» Presero allora la tunica di Giuseppe, scannarono un capro ed intinsero la tunica nel sangue. Poi mandarono la tunica dalle maniche lunghe, facendola pervenire al loro padre con queste parole, «L'abbiamo trovata, vedi tu se sia la tunica di tuo figlio o no». Egli la riconobbe e disse, «La tunica di mio figlio, una mala bestia l'ha divorato, Giuseppe è stato sbranato». Giacobbe si stracciò le veste, si pose un civice attorno alle arremi e fece lutto per suo figlio per molti giorni. Allora tutti i suoi figli e le sue figlie vennero a consolarlo, ma egli ricusò di essere consolato e disse, «No, io voglio scendere il lutto del figlio mio nella tomba». E il padre suo lo pianse. Intanto i Magianiti lo vendessero in Egitto a Potifar, e un uco del faraone, capo dei cuochi. I soldati prendono le vesti di Gesù, si dividono le vesti in tinte di sangue. Il sangue era colato dopo la fagellazione e durante così il cammino verso il Calvario. Le vesti di Gesù erano in tinte di sangue e si compiva la profezia del salmista. Si dividono le mie vesti, ma c'era una tunica, anch'essa in San Pilato, la tunica che Maria aveva tessuto e che, secondo la mia tradizione, cresceva come cresceva Cristo. Era inconsistibile, unico pezzo. E non la voglio dividere. Quella tunica era la Chiesa, che non si può dividere. Quella unica è il corpo di Cristo che non va diviso. E allora tirava una sorta a chi toccasse. E qui è un testo che si fa meritare. Il Signore suggerisca i pensieri, i sentimenti a ciascuno, sono quelli più adatti nella lettura di questo testo. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato e la tunica. Ora quella tunica era senza cucitura, tessuta tutta ad un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro, non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si addentiva la scrittura. Si son divise tra loro le mie vesti e sulla mia punica, e sulla mia punica han gettato la sorte. E i soldati fecero proprio così. che abbiamo messo, per motivi logistici, la veste del combattimento. E arriviamo alla la veste musciale, la veste bianca. Ricordate le nostre del Figlio di Dio, lo Sposo, le Dieci Vergine. Vi dicevo ieri che la vita cristiana va guardata, vissuta in clima nuziale. La vita cristiana va cantata nella gioia nuziale. Siamo in attesa dello Sposo. E verrà l'ora in cui entreremo nella patria celeste. Il vestito bianco lo indossano quelli che vengono dalla grande tribolazione e seguono l'agnello dovunque vada. Noi speriamo di indossare tutti il vestito bianco. Nel sangue dell'agnello ci è dato di immergere i nostri vestiti. E se sono amacchiati, nel sangue dell'agnello diventeranno candidi. Ascoltiamo il testo dell'Apocalisse. E i vegliardi allora si rivolse a me e disse, quelli che sono vestiti di bianco, chi sono e d'onde vengono? Gli risposi, Signore mio, tu lo sai. E lui? Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'agnello. per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo santuario. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame, ne avranno più sete, ne li colpirà il sole, ne arsura di sorta, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita e che Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Tutti vestiti di bianco dietro l'agnello, tutti vestiti a nozzero. Questo è l'augurio che tutti ci facciamo. ma tra i bianco vestiti emerge una figura meravigliosa, la madre dell'agnello immolato. con lei che ha dato la vita a Gesù, Salvatore del mondo. Essa è vestita di sole, la luna è sotto i suoi piedi, attorno al suo capo le dodici stelle. Guardiamo adesso a Maria, inebriamoci di questa donna vestita di sole. Noi saremo come tanti uomini vestiti di bianco attorno a lei. noi siamo gli eletti che accompagnano questa madre incontro allo sposo divino che viene per celebrare le nozze eterne con l'umanità redenda. Guardiamo per un momento Maria. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del pasto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste e sette di ademi. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per far sorire per divorare il bambino appena nato. «Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece cugì nel deserto, dove Dio gli aveva preparato un rifugio perché li fosse nutrita per 1260 giorni». Bene, la figura della Chiesa perseguitata, ma rimane sempre la figura di Maria davanti ai nostri occhi. e adesso questa mini-mistagogia ormai è terminata, la parte coreografica è stata rivolta ai minimi termini, ma nelle mistagogie la parte principale non è quella coreografica. La parte principale è affidata alla parola di Dio che deve penetrare dentro di noi e consentire momenti di contemplazione del mistero. E adesso ecco le nozze, siamo tutti vestiti di bianco, noi siamo la sposa dell'agnello, andiamo incontro a lui, rivediamo nel canto del capitolo 19 della Populista, questo momento bello che segna l'inizio dell'eternità beata per ciascuno di noi. rivediamoci tutti in cielo vestiti di bianco e gioiamo qui sognando il giorno bello in cui saranno celebrate anche per noi le nostre colagnello divino. rivediamoci un profilo del vostro amico, Dio è amore. L'amore di Dio prende diverse sfumature e noi lo presentiamo come padre, come madre, ieri lo abbiamo presentato come sposo. sono le categorie umane che ci consentono di scendere nel profondo del mistero di Dio, che è amore. Dio non è padre, madre, fratello, sorella, Dio è amore. però queste categorie ci servono per così toccare con mano i diversi aspetti dell'amore di Dio. Ci consentono questi diversi volti di Dio di comprendere quanto Dio ci ama. è come una gemma, è come un bellissimo diamante, vale molte facce, ma è sempre lo stesso diamante. Qualunque faccia ci guardi, è sempre quel diamante splendido. Così è l'amore di Dio. Dio è essenzialmente amore. Ricordo il detto di Giovanni, nella prima lettera, che Dio ci ha insegnato ad amare. Quando Gesù ci dice, ama Dio con tutta la mente, tutto il cuore, tutte le forze, questo comandamento è la risposta che l'uomo è chiamato a dare a Dio, che l'ho amato per primo. non siamo stati noi ad amare, ma è Dio chiamato a noi. E allora il comandamento si traduce così. Lascia che l'amore di Dio penetri in tutta la tua mente, in tutto il tuo cuore, in tutta la tua vita. Ossia, il comandamento si osserva quando noi allarghiamo le capacità di recepire l'amore di Dio. E' l'amore di Dio che deve penetrare dentro di noi. Non è tanto l'amore nostro che noi dobbiamo dare a Dio, quanto ricevere l'amore di Dio, realizzarci nell'amore di Dio e rispondere a Dio con quell'amore con cui Egli ci ha amato, ci penetra e ci vive. Il motivo per cui dividiamo, come in tante faccette, quest'amore di Dio che penetra in noi, è appunto per rendere più comprensibile l'amore del Signore e per poterlo meglio gustare. La categoria che usiamo questa sera nell'enneagramma, ossia nei nove volti di Dio, è il volto dell'amico. C'è anche nell'enneagramma umano l'amicizia che è un valore ribadito da Dio. Chi trova un amico trova un tesoro. in Gesù si riflette l'amore amicale di Dio e viene sublimato l'amore amicale umano. Il volto di Gesù è il volto del vero amico. Dove troviamo Dio, troviamo l'uomo. e dove noi possiamo risanare tutti i concetti errati che abbiamo avuto di Dio. Dove possiamo risanare tutte le delusioni che abbiamo avuto nei riguardi di Dio e nei riguardi del prossimo. E guardare in Gesù il vero amore di amicizia. Cos'è l'amore di amicizia? Non è l'amore del padre non è l'amore della madre non è l'amore dello sposo. L'amore di amicizia che è il vero amore che troviamo in Dio è reciproco è bilaterale. Il padre può amare il figlio anche che il figlio non lo ami. non è così nell'amico. E' tipico dell'amore amicale dell'amore di amicizia questo reggito citato. Ed è bello quest'amore di Dio amico. quando noi abbiamo un amico grande importante ci sentiamo importanti perché? Perché l'amicizia crea eguaglianza. Non ci può essere amore amicale se non c'è eguaglianza. ma con Dio come potremmo essere amici? Dio è onnipotente noi siamo povere creature. Dio è santo noi siamo creature fragili. come si può costituire un amore amicale tra noi e Dio? E allora Dio fa quest'operazione. Si abbassa a livello nostro perché ci sia uguaglianza. Si sia il medesimo livello e ci tratta da amici. Ecco libertà immensa di Dio. Dio si omiglia all'uomo perché l'uomo possa entrare in amicizia con lui. E è quell'amicizia che Dio aveva con Adamo il nostro primo padre quando era in comunione con lui conversava con lui camminava con lui era il momento bello dell'umanità purtroppo ha perduto. Però Dio ha continuato ad essere l'amico dell'uomo e questa amicizia con Dio viene ristabilita da Cristo di loro in Gesù siamo diventati amici amici di Dio. Nel Vecchio Testamento Dio ripetisce questo amore di amicizia ricordate ricordate Abramo Dio vuole distruggere Sodoma e Gomorra e allora Dio conversa conversa con se stesso c'è un po' c'è un po' un'immagine di addombramento della benità Dio dice ma stiamo combinando un guaio stiamo distruggendo Sodoma e Gomorra e stiamo facendo un disastro sulla terra ma possiamo nascondere questo che stiamo facendo al nostro amico Abramo mi pare male dice Dio che io faccia una cosa così grande così di tartrosa e non riveli questo al mio amico Abramo tanto più che Abramo ha dei parenti dei parenti in quella città nella città di Sodoma e così rivela all'amico Abramo il suo progetto che te ne pare che te ne pare Dio cammina con Abramo e cammino facendo gli apre il suo progetto e gli dà anche così possibilità di intercedere di Abramo amico di Dio conversa con Dio e gli dice ma te ne troverai troverò cento cinquanta venti giusti tu per questi venti buoni giusti distruggerai la città e il buon Dio fa questa grazia all'amico e poi Abramo dice te ne troverò dieci tu vi farai questa grazia all'amico Abramo e gli dice beh ti farò questa grazia anche se ne troverai dieci dieci non ne trovò ne trovò otto che era poi così così eh ne trovò otto e allora di acqua il suo progetto distrugge Sodoma e Comodano però avverti Abramo dice fa uscire i tuoi parenti fa uscire vedi come Dio tratta l'amico Abramo Abramo diventa l'amico di Dio abbiamo un bellissimo testo nei profeti Dio fa niente senza aver liberato quello che fa ai suoi amici i profeti Dio non fa niente senza prima rivelare ai profeti i suoi amici quello che deve fare Gesù dirà nel nuovo testamento voi siete i miei amici non mi chiamo più servo siete amici per questo io vi rivelo tutto quello che ho udito dal padre non mi nascondo nulla perché tra gli amici tutti in comune i veri amici si dicono tutto sono due persone uguali si danno del tu vogliono stare insieme e si rivelano tutto i più intimi segreti per questo è Gesù figlio di suo padre umile come suo padre che sia passato fino a prendere l'umana natura con più ragione può dire agli apostoli voi siete miei amici io li ho scelto non voi avete scelto me siete miei amici e vi rivelo tutto quello che il padre mio mi ha detto e altrove dice a voi miei amici non posso nascondere questo mistero a voi miei amici io non parlo in parabola ma dico i misteri di Dio come io li so per cui siamo diventati amici di Dio amici di Cristo Gesù è il nostro amico è il nostro amico l'amicizia del padre si rivela nel figlio Dio ci ama nel figlio per cui in Gesù troviamo il vero amico Dio è l'uomo noi desideriamo questo tesoro dell'amicizia fratelli e sorelle coltiviamo questo grande valore dell'amicizia che tante volte trascuriamo avere l'amico avere l'amica nel senso sublime dalla parola ma il vero amico è Cristo dove c'è tutto Dio e tutto l'uomo adesso guarderemo il volto di Gesù l'amico divino l'amico umano noi cantiamo una bella canzone c'è un amico che mi ama c'è un amico che mi ama viviamo l'amicizia di Cristo vero Dio e vero uomo noi nella nostra vita abbiamo subito dei traumi siamo state tante volte fraintesi dagli amici qualche volta può darsi che siamo stati traditi dagli amici da quelli che mangiavano il nostro pane che sedevano con noi alla medesima mensa siamo stati traditi nell'amicizia fraintesi nell'amicizia può anche darsi che abbiamo sofferto perché non abbiamo trovato un vero amico sulla terra in cui riversare il nostro cuore chi trova un amico vi ho detto trova un tesoro sono parole di Dio e allora ecco Gesù che si presenta a noi questa sera lei ci offre il suo amore incondizionato un amore leale sincero e lui rivive Dio Padre e lui c'è lo spirito e lui c'è il figlio di Dio ma lui c'è l'uomo l'uomo Cristo Gesù guardiamo questa amica guardiamo a Gesù inebriamoci di lui confidiamo a lui tutto il nostro cuore tutto quello che portiamo dentro il nostro cuore riversiamo le nostre amarezze accumulate nella vita nel cuore di Cristo è il cuore che ci ama è il cuore dell'amico divino il cuore che non ci tradisce mai il cuore che ci sorregge nelle necessità Cristo il vero lucro che dà la vita per noi nessuno ama tanto quanto chi dà la vita per i propri fratelli Gesù ci ha amato chi dà dare la vita per noi Gesù ha visto venire il lupo ha affrontato il lupo si è fatto sbranare per salvarsi lui pastore che diventa gnelico questo è il vero amico e ogni giorno sacrifica per noi ecco il vero amico guardiamo a lui con grande amore riversiamo su lui tutto il nostro cuore e ritroviamo in lui tutto l'amore tutto il mondo nella dimensione divina nella dimensione umana grazie grazie